Domenica 15 ottobre alle 20.30 in scena alla fabbrica Teschomen. Si tratta dello spettacolo nato dal corso di musical della scuola Toscanini di Verbania. Tenuto dall'attore e regista Riccardo Nazaroli con l'insegnante di canto Alex Saitta, e la collaborazione della scuola di danza Aerobic Dance Center. Il gruppo di allievi della stagione 2022-23 ha debuttato lo scorso 24 maggio con Teschomen. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.